Che cosa significa effettivamente parlare di qualità di vita del paziente e in che modo le terapie che oggi voi potete prescrivere lo facilitano? La psoriasi ha tante caratteristiche tante condizioni che ovviamente influenzano negativamente la qualità di vita dei pazienti perché è fatta di lesioni infiammatorie che spesso si localizzano in aree molto visibili ovviamente mettono in difficoltà i pazienti nella loro vita quotidiana di relazione anche lavorativa tante volte coinvolgono anche le articolazioni quindi si infiammano le articolazioni un aspetto, una comorbidità della psoriasi che crea grandi difficoltà nel sociale, nell'attività lavorativa proprio funzionale quindi ci sono tantissimi aspetti della malattia psoriasica che interferiscono con la qualità di vita del paziente la psoriasi ha dei sintomi, viene riferita dai pazienti con dei sintomi ben specifici cioè il prurito ma tante volte quando l'infiammazione che caratterizza la psoriasi è particolarmente evidente il paziente ti riferisce bruciore e dolore proprio a livello della pelle o anche a livello delle articolazioni ed è ovvio che tutto questo non può che condizionare fortemente la qualità di vita del paziente. Dottor Viola, quanto è invalidante la psoriasi per un paziente che ne affetto? Quanto questo viene anche riconosciuto a livello istituzionale? Invalidante per il paziente? Tantissimo, tantissimo perché la prima forma di difesa della persona che si sente danneggiata dal punto di vista estetico è quello di isolarsi per cui vita sociale fine, per cui la fatigue di cui parlava il dottor Piacerico emerge anche nel fatto di arrivare a casa e non sognare altro che stare nel proprio cantuccino nascosti lì raggomitolati davanti alla televisione e non fare più assolutamente niente. In più c'è da scontare tutto un bagaglio di reazioni anche non volute da parte di chi ci sta intorno perché una persona che abbia una psoriasi che gli provoca la presenza di forfora che ci sta di fianco nella metropolitana, noi cerchiamo essendo persone colte, educate e che si sanno rapportare con il prossimo, le viviamo come persone normalissime ma c'è gente che veramente si allontana, c'è gente che ancora adesso la prima domanda che ti pone se ti vede con delle chiazze di psoriasi su una mano ma è contagioso, per cui pensate quanto può essere invalidante. Dal punto di vista del riconoscimento invece sociale è sostanzialmente molto basso perché addirittura nelle commissioni di invalidità un dermatologo non c'è mai, la psoriasi non è tra le malattie tabellate, termine brutto ma purtroppo i legislatori parlano in questo modo, cioè non è tra le patologie elencate tra quelle che possono dare una percentuale di invalidità e non solo, ma non ci sono neanche patologie che siano più o meno assimilabili. Una persona che abbia una psoriasi sulle mani e che faccia un lavoro tipo il panettiere smette di lavorare e non ha nessun riconoscimento perché non c'è, quindi la situazione è veramente molto drammatica.